INSETTI VOLANTI Lancia gli insetti in aria grazie al nuovo caricatore. Annientali con i potenti blaster. L'invasione è respinta! Caricatore lancia insetti, due blaster, tre insetti volanti e 24 dardi. Solo da ODS. I nuovi spara dardi X Shoot Bug Attack sono arrivati. La battaglia ha inizio. Preciso e letale, il nuovo Eliminator colpisce fino a 16 metri. Sbrigiona la potenza del Rapid Fire con una raffica di 6 dardi. Gli insetti hanno i giorni contati. Nuovi X Shoot Bug Attack da ODS. Grazie a tutti.